E sa che c'è Ariano Film Festival, quindi lei in un punto strategico guadagna qui con Ariano Film Festival? Diciamo, non c'è male, dai, fare questa manifestazione è sempre importante. Che questa manifestazione, lei ha tempo di andare a vedere qualche film? Pochissimo quanto niente purtroppo, perché mi piacerebbe tantissimo. Faccio un plauso a Narita Cocca perché è bravissima e merita veramente tanto successo. Per Ariano, che è già arrivata alla sesta edizione questa manifestazione, l'ha vista crescere? Sì, sì. Cioè c'è più attività? Sì, 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 per me sì, speriamo sempre di più, sempre di più. Allora, grazie. Prego.